Finalmente un passo concreto verso il tifo rosso-nero. Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi alla Lucchese. Il vento sembra essere cambiato e la società si è messa a lavorare come si deve. Ora ne abbiamo la certezza. Pare infatti che la dirigenza già da giorni sia a lavoro sulla nuova campagna abbonamenti e abbia l'intenzione non solo di confermare prezzi popolari per curva e gradinata, ma che voglia anche aprire una finestra di una settimana in cui vendere i tagliandi stagionali a prezzi a dir poco stracciati. Sette giorni in cui con poche decine di euro si potranno acquistare gli abbonamenti di curva e gradinata con un ulteriore sconto per le famiglie. Non è ancora ufficiale ma in sede ci stanno lavorando. Una bella iniezione di fiducia verso il tifo più caldo e generoso anche per superare le difficoltà di chi pur ritenendo vantaggioso lo stagionale non compra l'abbonamento perché il calcio spezzatino non consente minimamente di programmare il fine settimana. E allora complimenti Lucchese, forza Lucchese e avanti popolo rossonero. Diamo una mano alla nuova Pantera.